Finalmente è arrivato il Natale e qual modo migliore per festeggiarlo se non ovviamente portando un bellissimo video parlando delle migliori scarpe che sono uscite nel corso degli anni scorsi. Beh ragazzi, innanzitutto buon Natale a tutti quanti, prima di iniziare con il video mettetemi un bel like, spero che lo stiate festeggiando nel migliore dei modi, però questa mattina mi sono svegliato e ho detto no dai, non posso mancare anche a Natale, facciamo uscire un bel video su YouTube parlando proprio di questo argomento. Faremo un po' una lista delle scarpe che sono uscite negli scorsi anni, non andremo in ordine dalla peggiore alla migliore o viceversa. Quindi tutte le scarpe che vi dirò sono messe un po' così, così, a cavolo. Essendo un argomento di punta non possiamo assolutamente che non parlare delle Kobe Greens. In realtà queste sono le Reverse Greens, ma nel 2010 e nel 2020 sono uscite proprio quelle che ricordiamo, o almeno che ricordo io come la scarpa di Kobe Bryant. Se volete rovinarvi il Natale questa è la scarpa perfetta per voi, ovviamente ispirata al famosissimo film, ma non è l'unica appunto ispirata poi al fumetto del 1957 che andremo a vedere in questo video. È una scarpa assolutamente importantissima, rilasciata e indossata da Kobe Bryant proprio il giorno del 25 dicembre 2010 e poi è stata anche rilasciata nuovamente nel 2020 alla vigilia. Attualmente le paia vanno dai 1500 fino ad arrivare ai 1800 euro. Rimanendo in tema NBA, anche Lebron nel corso degli anni ha messo la sua firma per la scarpa natalizia. Ma nel 2012 ha rilasciato la Lebron 10 Christmas. Praticamente una tomaia verniciata super lucida che mi sembra le macchine che escono dalla pista di Monza, però non è assolutamente male. Attualmente il valore di questa è intorno ai 300 euro. Avete presente tutta la famiglia delle lobster, ovvero le fantastiche colorazioni che sono diventate tra le scarpe più in hype degli ultimi anni? Beh, sempre Concept, ovvero l'azienda che le sviluppa, ha collaborato con Nike in passato, più nello specifico però per creare delle AI. E le ugly sweaters rilasciate nel 2012 e nel 2017 sono sicuramente qualcosa di molto molto interessante. In tutte le varianti troviamo questo pupazzetto con il berretto di lana e proprio l'idea che ha fatto creare questo design era di riprendere appunto i maglioni utilizzati sempre a Natale, ovvero i classici invernali. Forse una delle più belle di sempre è stata proprio a dicembre del 2020. Credo che il 2020 tra Travis Scott eccetera sia stato uno degli anni più belli per quanto riguarda i drop di sneakers. Comunque le Shawn Cleaver sono qualcosa di fantastico. Il design dietro è praticamente un paesaggio ghiacciato, non troviamo troppi dettagli pacchiani come pupazzi di neve vari piuttosto che babbi natale vari, ma questa devo dire che è qualcosa di assolutamente fantastico. Arriva nella versione SB e quindi già parte per me dieci passi avanti, tantissima roba, attualmente infatti il suo resell è qualcosa di folle, varia dai mille a salire, ma davvero una scarpa fantastica. Escludendo le SB e parlando di Dunclone normali, nel 2021 è uscita la Ice. L'idea dietro non era proprio ispirata al Natale, ma al periodo natalizio, traducendo letteralmente le sciocchezze dei bambini, quindi in poche parole quando vanno a giocare fuori, si tirano le palle di neve piuttosto che vanno con lo slettino, questa è stata l'idea. Personalmente il design non mi fa troppo impazzire, però dovevamo assolutamente menzionarla. Se volete comprarla non dovreste neanche spendere tanto, intorno ai 200-300 euro, poi ovviamente dipende dalla taglia. Abbiamo parlato sempre di Nike, passiamo un attimo ad Adidas. Queste si chiamano letteralmente le Grinch. No, non hanno nulla a che fare con il paio di Kobe, bensì abbiamo delle form low. Uscite nel 2022, questa è stata la prima scarpa che ha menzionato il fumetto del 1957, anche proprio come il box, e ispirata totalmente al Grinch, quindi non proprio al Natale in sé. Attualmente queste vanno dai 150 fino ai 200 euro. Un'altra molto molto interessante, e poi ragazzi chiudiamo, è ovviamente la Candy Cane di Nike, rilasciata nel corso del 2015. Ispirata proprio al dolce rosso e bianco di zucchero, questa ha fatto impazzire tantissimi appassionati, e per la gioia dei reseller ci rivende attualmente sui 500 euro a salire. Fatemi sapere nei commenti qual è secondo voi la più bella di queste che ho menzionato, oppure se ce n'è qualcuna di cui non ho parlato. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, non ve lo voglio spoilerare, quindi per rimanere aggiornati attivate la campanella delle notifiche subito dopo esservi iscritti. Detto questo vi auguro ancora un buon Natale, buona giornata a tutti. Grazie a tutti.